problema come quelli che facevamo a scuola tanti anni fa questa è una borsa se la portate in giro e ci andate al lavoro è la vostra borsa se siete una donna e la portate magari a tracolla è una borsa da donna se siete gli assistenti di un politico siete un portaborse e prendete anche soldi tanti anche magari a volte stipendi che arrivano a sfiorare anche 80 e 90 e 100 mila euro l'anno mi sa sono borse pesanti ci vuole fatica a portarle in giro i portaborse però per loro natura sono legati all'esperienza politica cade il politico il portaborse se ne va il politico viene trombato il portaborse viene trombato insieme al politico invece no perché è stato inserito un emendamento sotto sotto 4 4 tomo tomo cacchio cacchio come diceva un emendamento che prevede la stabilizzazione dei portaborse o meglio tutti quelli che hanno fatto gli assistenti ai consiglieri regionali assistenti ai consiglieri regionali provate a immaginare quanti ce ne siano in italia che sono stati nell'ultimo triennio impiegati appunto nelle regioni italiane potranno essere stabilizzati a domanda a domanda sapete cosa significa domanda che basterà fare una domandina per diventare dipendenti a tempo pieno delle regioni cioè per trovarsi un posto pubblico una domandina da portaborse a dipendenti pubblici e noi vediamo con i soldi nostri così adesso avranno modo di portarsi la loro di borsa con qualche soldo dentro in più e senza dover neanche lavorare per il politico che magari sarà stato trombato mai come oggi viva l'italia